buongiorno a tutti da Leonardo Vati e benvenuti sul mio canale youtube oggi siamo sempre in keyshot e andremo a vedere le fotocamere quindi quegli oggetti che ci permettono di visionare di vedere il nostro oggetto magari da tutte le viste prospettiche o in prospettiva oppure dall'alto frontale oppure da destra per fare questo andiamo a destra nel pannello di destra abbiamo il pannello fotocamera ok e qui abbiamo free camera cioè fotocamera libera fotocamera prospettica fotocamera superiore frontale e destra per attivare le fotocamere basta fare un doppio clic sulla fotocamera in questo caso è attivata la prospettica se faccio doppio clic sulla superiore si attiva in automatico la fotocamera della vista superiore io lo vedrò vedrò il mio oggetto dall'alto doppio clic sulla frontale idem e doppio clic sulla destra e dovrei vedere il mio oggetto nella vista di destra ritorniamo nella vista prospettica e per capire meglio dove sono posizionate le mie fotocamere vado nel pannello di sinistra dove c'è appunto ambiente lavoro clicco su default e clicco su camera in automatico ci farà vedere il nostro nostra area di lavoro con tutte le fotocamere attivate in questo momento quindi abbiamo quella prospettica che è di rosso perché attiva in questo momento ok poi abbiamo la frontale quella di destra e quella superiore se io faccio doppio clic sulla frontale vedete che in automatico diventa rossa qui sinistra quella frontale quindi mi farà vedere chi attiva quella frontale e le altre sono in grigio se io voglio posso tranquillamente allora tornare nella prospettica creare una mia impostazione di fotocamera facciamo un esempio che io voglio una fotocamera che sia posizionata in questo modo qui ok e poi vado a cliccare su nuova fotocamera quindi aggiungi nuova fotocamera clicco su aggiungi nuova fotocamera e chiamerò fotocamera che ne so arri arri 1 invio perfetto quando io faccio doppio clic sulla prospettica andrò sempre nella visuale tipo prospettico però se ci fate caso qui è stata aggiunta una nuova fotocamera dall'alto tanto vero che io faccio doppio clic sulla ri 1 ritorno nella visualizzazione della fotocamera che io ho salvato e quindi in questo modo qua io posso andare salvare più viste per fare più rendering in caso un mio cliente oppure io voglia avere rendering con prospettive diverse del mio oggetto ok spero di essere stato abbastanza chiaro per questo tipo di video ci vediamo in prossimi video un saluto da Leonardo iscrivetevi e mettete un bel like al canale grazie a tutti e buona giornata